In un comunicato stampa la New Basket Agropoli ha comunicato di aver affidato la guida tecnica della squadra al coach Franco Lepre. Si tratta di un graditissimo ritorno ad Agropoli. La società comunica inoltre che si avvarrà della consulenza di Donato Avenia per gli assetti, le strategie e gli obiettivi. A Franco e Donato vanno un grosso in bocca al lupo e il sostegno dell'intero gruppo dirigente insieme agli auguri di buon lavoro. Con altrettanto piacere e orgoglio la New Basket Agropoli annuncia che Tesi, Tecnologie e Servizi Innovativi, SRL, sarà uno dei main sponsor della squadra che disputerà il campionato di Serie C Gold 2019-2020. Farà parte della nostra famiglia anche l'Isium4U che ci affiancherà con la propria struttura nella preparazione per l'intera stagione agonistica. Le aziende Tesi e SRL e dell'Isium4U desiderano in questo modo affiancare i propri valori a quelli dello sport, della cultura e del sociale, coniugando con noi positività e forza. Sono strafelice di tornare a casa mia e di poter allenare la New Basket Agropoli, dichiara il neocoach Franco Lepre. Si partirà dalle cose buone fatte lo scorso anno per cercare di arrivare nella stagione 2019-2020 più in alto possibile. Insieme a Donato Avenia ci stiamo già muovendo per preparare un roster di tutto rispetto per fare un campionato da protagonisti.